Buon pomeriggio e benvenuti in Corsia. Oggi parliamo di un argomento che interessa a tantissime persone, il dolore e la medicina del dolore. Ne parliamo con il dottor Giovanni Nicotera che è specialista in anestesia e terapia del dolore. Bentornato ai nostri studi. Grazie. Tante trasmissioni qui con altre colleghe. Ci siamo occupati spesso sia con Marisa Falli, con Rosalba Baldino, con Isabella Roccamo di dolore e terapia del dolore ed è giusto parlarne ciclicamente perché intanto bisogna mandare dei messaggi a chi soffre, a chi sopporta il dolore, a chi cerca di tollerarlo e deve essere aiutato. E anche perché ci sono anche delle novità che riguardano diversi aspetti. Ma comincerei, se lei è d'accordo, dal definire il dolore. Sì, intanto grazie, buon pomeriggio a tutti e grazie per l'invito. La definizione del dolore è classica che viene presentata spessissimo nei convegni e della associazione più importante al mondo che si chiama IASP, International Association for the Study of Pain, che è stata recentemente rinnovata. Questa definizione, senza ripeterla pappagallescamente, fa il punto e pone molta attenzione sul fatto che il dolore può essere dovuto a un danno tessutale o un danno che sta per avvenire addirittura, o come il paziente intende e porta su di sé la sofferenza legata a questo sintomo. La definizione è stata poi magnificamente descritta e corredata di alcune note, non sto a leggere né a riportarle. Quello su cui si punta molto per questa definizione è il dato sofferenza attuale o potenziale e soprattutto il punto di vista del paziente, come questa sofferenza viene descritta dal paziente. Nel 2015 ho avuto l'opportunità e il piacere di essere invitato a Montreal per il convegno mondiale sul dolore dove, dopo una riunione plenaria durata quasi una giornata, abbiamo firmato, eravamo un bel numero di esperti, tra virgolette da parte mia esperti, ma molti esperti mondiali del dolore, che è diventato un po' il manifesto di quello che è la necessità che tutti gli stati, soprattutto quelli del terzo mondo, offrono ai pazienti la possibilità di essere curati tutti nel migliore dei modi, che siano informati sulle possibilità di cura e che soprattutto se, ma questo lo prevedeva già il codice di deontologia medica, se ci si trova di fronte a un caso difficile per la propria possibilità, demandare o chiedere collaborazione a colleghi in grado di poterlo fare. Quindi il punto della definizione è che si focalizza più che sul danno anatomico, che comunque c'è, o c'è e non si vede, questa è una cosa che credo sia il caso poi di parlarne, è la sofferenza che questo sindomo comporta. La cosa particolare che noi chiamiamo dolore, il termine che viene dal latino, in inglese si chiama pain, perché viene da pena, pena dal greco, dal greco e dal latino, ma proprio dall'origine etimologica vera e loro hanno mantenuto questo termine. Diciamo che entrambi sono calzanti, sia dolore che pena. Pena forse ancora di più, perché dolore, tutti associamo dolore ad un qualcosa di fisico, pena è un pochino tutto. E' più di anima. Esatto. C'è un dolore fisiologico e un dolore patologico. Esattamente. Il dolore fisiologico è quello che capita prima o poi a tutti, capita a tutti di avere una martellata sul dito, per dire quelli meno, e anzi a proposito colgo proprio questo esempio, per cogliere l'aspetto psicologico del dolore. Se questa martellata avviene nel momento in cui stiamo appendendo un quadro ad una parete e ci arrivano i notizie in casa, guarda che abbiamo vinto il super enalotto, quel dolore è zero. Quello stesso dolore, quello stesso atto, quella stessa forza sul dito, se in un momento di sconforto, di abbattimento, di pressione, diventa un dolore intollerabile. Questo vuol dire molto. Perché la nostra soglia, si dice così, del dolore varia a seconda dello stato d'animo. Notevolmente. Lo stesso dolore, nello stesso individuo, con la stessa intensità, a vari colori. Certamente il dolore comunque è un meccanismo di protezione, è un meccanismo dolore. Il dito diventa viola comunque. Il dito comunque, sì. Quello sì. Sì. È un meccanismo di protezione. Lo sai che mi viene in mente, l'altro giorno ho partecipato a una presentazione di due libri, in particolare uno di un ex malato oncologico, che diceva, quello che gli avevano detto, gli avevano raccontato, chi sta bene psicologicamente è più facile che guarisca, perché attiva tante di quelle funzioni vitali che aiutano a venire fuori dalla malattia. Giustissimo. Ormai è più che consolidato ciò che anni fa, io sono vicino ai 50 anni dalla laurea, non si pensava fossero fantasie, quella che oggi è una scienza. La psico, neuro, endocrino, immunologia, è tutta una parola. C'è un bel libro scritto da Bortecchini, padre e figlia, che spiega e dà proprio nozioni documentate scientificamente di come il sistema immunitario e la psiche insieme possano non solo aiutare nella guarigione o possono addirittura provocare delle malattie. E mi viene in mente l'altro libro, perché si parlava di una condanna ingiusta. Penso a Enzo Torto e a tante altre persone, per esempio in questo caso era Michele Padovano, che ha rischiato anche di ammalarsi, ma molti non sono arrivati poi alla sentenza di assoluzione perché si sono ammalati prima, perché un danno psicologico poi si riverbera sul fisico. Assolutamente sì. Ripeto, questo ormai è un dato acclarato. Come è acclarato che patologie simili, chiaro che ognuno di noi ha un'esperienza di vita, un vissuto, un modo di affrontare i problemi diverso. Due fratelli gemelli possono avere due diversi modi di reagire agli stessi stimoli patogeni, ma chi affronta con più volontà, con più buona predisposizione il percorso terapeutico, certamente ha più possibilità. Mi ha fatto venire in mente una ricerca stupenda che è stata fatta circa 30 anni fa. Mi ricordo ancora perché mi fece impressione, ero agli inizi, io mi occupavo prima soltanto di rianimazione e di anestesia, poi cominciai ad appassionarmi al problema dolore, soprattutto di dolore oncologico. Si fece uno studio molto ampio in Inghilterra e in America su pazienti che erano simili per età e per patologie e che soprattutto assumevano la stessa terapia che consisteva in due compresse di morfina per bocca da 10 milligrammi cada una al giorno. Erano quasi 6.000 casi, quindi una statistica bravissima, una cosa consistente. Il sistema era doppio cieco, cioè chi poi rilevò i dati non sapeva assolutamente nulla di come era stata condotta. Qual era stato il disegno dello studio? Era stato far somministrare queste terapie da personale che aveva in varie orie della giornata che erano le 8 e le 20, due diversi approcci. Un approccio più umano, più empatico, più disponibile, accompagnato magari da due minuti, cinque minuti, e un altro invece prenda questa cosa bruscamente. Poi c'era chi faceva la rilevazione che andava a chiedere come è andata ieri, come si è sentito, le stesse terapie che non cambiavano. Mettendo alla fine i dati, andando a studiarli statisticamente, venne fuori che il 70% delle dosi somministrate con empatia davano un risultato andalgico molto superiore, molto migliore di quello dato. Il valore della gentilezza. Dell'empatia. Dell'empatia. Esattamente. Dolore neuropatico invece. Ah, è una bella domanda. Volevo solo finire un attimo con una cosa che richiede molta, soprattutto quando si fanno questi corsi agli studenti o anche al di fuori dell'ambito sanitario puro. Ho chiesto una volta dei ragazzi di un liceo se tra le possibilità offerte da una lampada di ladino teorica ci fosse anche quella di poter dire voglio essere un superman che non avverte dolore. Molti di quei ragazzi dissero sì, a me piacerebbe. Purtroppo invece è un gravissimo problema sanitario che esiste ed è una carenza genetica della particolare forma di NGF, il famoso NGF isolato da Rita Levi Mondalcini con l'ausilio che lei molto correttamente dichiarava aver scoperto grazie all'aiuto di un cosentino di Luigi Aloe che ancora lavora in questo ambito, che impedisce lo sviluppo dei recettori, dei nocicettori cioè il non sentire dolore provoca la morte. Pensate ad una bambina che ha un appendicite acuta e non dice nulla arriva alla peritonite senza dar segni di sofferenza. Si cita in letteratura un caso famoso allo figlio di un collega che fu trovata completamente arsa viva perché la sera non avvertiva si era addormentata di fronte al caminetto, si era bruciata completamente senza poter avvertire nulla. ci sono delle famiglie, perché è genetica la trasmissione, che non avvertono dolore e che vivono una vita immaginate, dovendo stare attenti a qualunque cosa. Noi impariamo nel corso della vita a evitare di mettere le mani sul fuoco le mani su una spilla, una puntina da disegno, eccetera. Non urtare. Queste famiglie non lo possono. chiedo scusa per questo. No, no, prego, è interessante, ma è un immagino caso rarissimo. Ce ne sono più di quando non si immagini. Sono rari, sicuramente, fortunatamente, ma ce ne sono in famiglie irlandesi, nordamericane e anche in Africa. È l'extrana questa disposizione geografica diversa. Senza anesso geografico. Esattamente. È molto affascinante, però, allo stesso tempo, terribile. Del resto, le patologie più gravi, fra virgolette, spesso sono indolori e si scoprono poi nel momento in cui è troppo tardi per intervenire. Esattamente. Penso, per esempio, ai tumori al pancreas, che non danno effetti. Molte malattie non danno. Oppure il rene, che non dà assolutamente segnali e poi invece è compromesso. Esatto. Comunque, in queste malattie... Il dolore quindi ci salva. Alla fine si arriva ad una sindomatologia. Sì. Questi pazienti non l'avranno mai. Mai. Si può andare a vedere su internet agenesia oppure sindrome dell'assenza del dolore, eccetera. Ci sono vari termini. Ci sono le foto di bambini che sorridono con le dita amputate, con le piaghe, senza denti, perché sono caduti o perché hanno la carie e non hanno mai sofferto. E quindi ci sono patologie... E' una questione di recettoi del cervello che non sono collegati... E' dalla periferia che l'impulso non arriva al cervello. Le famose tre cellule che conducono il dolore, molto brevemente, se pensiamo che dall'estremità del quinto dito di un piede un solo fascio sottilissimo arriva al midollo, a livello delle vertebre lombari, dove trova un ganglio col suo corpo cerebrale, ed è una cellula che si collega nel midollo con una seconda cellula, la quale manda un suo prolungamento nel talamo, nella parte centrale importantissima del cervello, dove questo sintomo, questo segnale, viene inviato alla corteccia, dove diventa cosciente. Ecco, se viene elaborata nel senso importante di dolore, diventa tale, altrimenti si chiama nocicezione. immaginate un altro esempio di un peso importante che finisce su un piede, del dolore. Lo stesso piede di una ballerina che balla sulle punte. Provateci a stare sull'alluce e a fare delle pirouette. Diventa doloroso per chi elabora in maniera negativa questo sintomo. E nocicezione, cioè sente la ballerina che ha l'alluce poggiata a terra, e che preme, ma non le fa male. Perché ha un modo di elaborare il sintomo molto diverso. Per rispondere a lei chiedo scusa per lei. Prego. Il dolore neuropatico, e qui mi è capitato una volta che non lo feci in tempo a dire a un paziente, guardi che lei ha un dolore neuropatico, oh ecco dottore, anche lei mi ha preso per un pazzo. No, il dolore neuropatico è un dolore che è dovuto ad un cattivo funzionamento o ad una malattia del sistema che ho appena descritto. Cioè, di questo percorso, esclusi i recettori periferici, tutto quel percorso può subire dei danni fino all'ictus cerebrale o la sclerosi multipla o una malattia midollare o la nevragia trigeminale. Cioè, se quel percorso subisce un danno o una malattia, il dolore che ne deriva si chiama dolore neuropatico. Però, ripeto, dobbiamo stare attenti quando lo comunichiamo ai pazienti. Spiegare bene che cosa vuol dire. Io aggiungerei un'altra cosa che è piuttosto recente visto che stiamo parlando di definizione di dolore. Non so se lei stava per dire qualcosa, ma... No, no, prego, prego. Ed è un'altra accezione nuova che è dolore nociplastico. 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 Che cosa vuol dire? In realtà vuol dire che non abbiamo capito alcune cose. ma vuol dire un dolore in cui non riusciamo a dimostrare la presenza di un danno anatomico. Non riusciamo a trovare il motivo come può essere... Non lo so, facciamo una risonanza magnetica nucleare ad un tratto di colonna vertebrale lombare, vediamo che c'è un'ernia che preme sulla radice midollare, diciamo, ecco il motivo di questo tuo dolore lungo lo sciatico è questo. Non troviamo nulla. Però il dolore persiste. Però il dolore c'è e bisogna credere al dolore del paziente sempre. Ci sono alcuni dolori e credo che in questo forse c'è chi ci sta a sentire che soffre di fibromialgia. La fibromialgia per tanti anni è stata etichettata come malattia inesistente, come malattia dei depressi, come pure semplice depressione. Non è affatto così. È una malattia in cui la cosiddetta pain matrix, la matrice del dolore, ha subito dei danni. purtroppo è una malattia legata al sesso femminile. Noi maschietti abbiamo altre malattie, ma la fibromialgia è una malattia che colpisce le donne in un rapporto 8 su 10 rispetto ai due maschi che ne sono affetti. Ed è una malattia molto, molto invalidante dal punto di vista... Quanto è diffusa? È molto diffusa, più di quando non si sappia. Anche questa è in aumento con la matologia oppure è sempre stata magari non riconosciuta? È questa la risposta, cioè a dire essendo stata misconosciuta fino a poco tempo fa, non è stata catalogata tra le malattie, anzi è stato il 2022, non vorrei sbagliare ma credo di no, che l'ICD11 che è la classificazione internazionale delle patologie dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'OMS, nel 2022 ha inserito la fibromialgia tra le malattie vere e proprie a sé stanti, non come malattia inventata dai pazienti, ma prima di allora non esisteva e quindi anche le statistiche, poter dire se negli anni 60 era come adesso intorno al 5% o il 4% a seconda dei paesi in cui viene esaminata, c'era probabilmente lo stesso ma non veniva però non se ne parlava, non si conosceva, non veniva diagnosticato, veniva etichettato come depresso come depresso ed è una cosa veramente credo una delle cose più brutte che possa capitare ad un paziente è non sentirsi capito, accolto, curato, compreso nel suo percorso di sofferenza. Quali sono i dolori che si avvertono quando si soffre di fibromialgia? Sono dolori diciamo muscolari, muscolari, diffusi, ecco per esempio mi ha chiesto un collega una volta ma c'è un mio paziente che ha l'artrite reumatoide e la fibromialgia mi ha telefonato dicendomi che gli faceva molto male la spalla destra è fibromialgia o è artrite reumatoide? La risposta immediata ed è semplice quando c'è una asimmetria cioè un solo lato non è fibromialgia i dolori della fibromialgia sono simmetrici bilaterali seguono addirittura degli schemi anatomici ma non precisi non codificati come i trigger points cosiddetti ma sono bilaterali la cosa che fortunatamente capita in molti casi nelle donne è che col passare degli anni tende a diminuire o scomparire non sempre purtroppo ci sono pazienti che portano la loro fibromialgia per sempre però già questo esempio della bilateralità aiuta a diagnosticarlo comincia ad essere una delle perché altrimenti perché non c'è nessun prelievo nessuna indagine radiologica nessuna elettromiografia nessuna indagine che possa documentare in maniera inoppugnabile la presenza della malattia e l'insieme dei sintomi la raccolta dell'anamnestica la visita i pazienti bisogna visitarli denudarli e visitarli altrimenti la visita fatta dietro il tavolo dietro la scrivania o a distanza vabbè fai questo o fai quello immagino che sia anche una patologia in cui c'è molta soggettività nel senso che un paziente racconta la sua fibromialgia altri nove ne racconteranno un'altra sicuramente è così anche perché mettiamoci nei panni di questi pazienti cioè avere dolori muscolari di questa intensità è continuità perché fortunatamente non c'è 24 ore su 24 ma c'è per molte ore al giorno ci sono dei giorni di pausa ma difficilmente abbandona soprattutto ripeto nelle donne fino alle prime gravidanze soprattutto quando poi tende a diminuire e c'è questa ipotesi legata agli estrogeni agli ormoni femminili che spiegherebbe perché il testosterone difende noi maschietti e questo discorso vuol dire avere una patologia che non è compresa e quindi c'è quella che è una depressione secondaria che deriva dalla qualità della vita non viceversa come fino adesso si era ritenuto quindi la depressione non è sintomo ma è secondaria causata dalla sofferenza diciamo che il medico riferimento è il reumatologo però è un lavoro di equip assolutamente sì cioè una delle stanno venendo fuori delle linee guida quanto meno comportamentali le linee guida in medicina e in medicina del dolore come in tutte le altre branche della medicina ci sono delle linee comportamentali suggerite non dico imposte ma sicuramente che hanno un valore importante perché stabilite da un insieme di studi di società scientifiche ad hoc se il paziente o la paziente fibromialgica non viene affidata ad un'equip multidisciplinare di cura il fallimento è quasi certo e lì allora devono intervenire reumatologi fisiatri medici del dolore psicologi qualche volta psichiatri molto spesso ci sono i counseling di gruppo che funzionano la cosa particolare la fermo un attimo perché c'è una telefonata siamo vicini pure alla pausa vediamo se riusciamo a prenderla buon pomeriggio da dove chiama e come si chiama pronto si si prego può rivolgere la sua domanda al dottor Nicotera allora io conosco personalmente il dottor Nicotera ma specialmente per la sua umanità per la sua preparazione e per il modo di porsi rispetto ai pazienti i cosiddetti pazienti però il problema è questo io le parlo per un'esperienza personale bene su una neuropatia sensitiva motoria accertata dal punto di vista elettromiografico chiaramente uno si rivolge a tizio che ti dà l'antidolorivo l'antidepressivo l'anticombulsivante poi arriva un certo punto in cui dice beh fammi consultare un centro di terapia del dolore vicino e quindi si reca senza lo sa che cosa è successo all'egregio dottor Nicotera io mi sono recato presso l'ospedale di cosenza innanzitutto in intramedia pagando 152 euro e la visita si è svolta all'interno della divisione cosa che non può essere e non deve essere fatto specialmente in un clima in cui l'epidemia dicendo a gennaio febbraio sappiamo tutti che c'è l'epidemia c'era anche del covid e c'è la rincoenza e quindi primo fatto secondo fatto io mi siedo davanti ad un aiuto a un assistente del direttore e mi chiede delle cose e le porto qualcosa mi chiede qualcosa e do notizie anche specifiche perché ho una certa competenza dice va bene aspetta un pochettino che vado di là va di là riferisce al capo a un certo punto arriva il capo mi dice si guardi ho capito dice lei deve fare questa dobbiamo mettere degli elettrodi cioè di elettrostimolazione che capirà sicuramente dico scusate sì ma io ho queste qui perdio anche l'anticoculante però andare a mettere insomma a livello del paravertebrale altre cose mi sembra no vabbè non ti preoccupare perché parliamo noi col tuo cartiolo vabbè dico allora che devo fare e dico dobbiamo fare così il primo medico io sono stato seduto neanche un riflesso patellare niente lo sa che cosa è successo io in quel momento ho detto sentite io dove presso la direzione dovrei denunciare perché questo è medicina non è medicina mi corre il medico a tosta e mi dice e guarda a un certo punto no forse tu sei abituato ad un altro modo di fare il medico no io sono abituato a fare il medico come medico ma che uno arrivi addirittura a proporre le stimolazioni senza neanche averti visto e questo è criminale mi dispiace ma io devo dire beh questi stessi personaggi sa che fa la politica li prende e li promuove per andare a dirigere grossi anni la ringrazio per l'intervento io l'ho raccontato perché adesso non è una questione di competenza è questione di serietà di umanità e ha detto bene sul dottor Nicotera ci fermiamo un attimo per la pubblicità poi torniamo in studio e magari se il dottor Nicotera vuole commentare questo episodio che ho sentito a tratti però ci vediamo fra pochissimo ancora per parlare di medicina del dolore seconda parte di in corsia si parlava di di empatia dottor Nicotera quella telefonata questa telefonata è un esempio di una giornata infelice probabilmente non solo per il paziente ma probabilmente anche per il medico esattamente credo di di aver capito un po' la situazione anche il posto anche chi so che fanno si comportano normalmente in maniera molto diversa molto più empatica probabilmente è stata una giornata negativa era anche il periodo covid chissà cosa era successo quel giorno perché altrimenti hanno un approccio molto più empatico nei confronti dei pazienti sofferenti questa è una terapia mi diceva microfoni spenti particolare che sfruttano un'elettrostimolazione per ingannare il dolore esattamente a me piace fare un esempio e non per fare sfoggio perché è una cosa che è alla portata di tutti i ragazzi dei licei quando a Socrate furono tolte le catene per poter ingerire la cicuta si massaggiò le gambe per non sentire dolore è come quando da bambini ci si fa male si va dalla mamma a far si massaggiare cioè questi sintomi queste sensazioni tattili leggere create artificialmente con questi sistemi questi elettro riposizionati nello spazio midollare retro midollare mandano un impulso piacevole come un formicolio nel midollo trovano un cancello si chiama proprio gate control theory teoria del cancello che lascia passare questi nuovi sintomi attraverso delle fibre molto particolari quelle del tatto leggero sostituendosi e chiudono il passaggio al dolore questa tecnica che abbiamo iniziato l'IRCA nel 2000 nei primi fine 99 2000 è tuttora validissima la spinal cord stimulation appunto che per far capire ai pazienti come inserire la batteria per un pacemaker cardiaco tant'è vero che le aziende che producono questi sistemi sono state all'inizio le stesse aziende questa fa parte di una forse anche il caso di spendere due parole sulla terapia invasiva cosiddetta del dolore che poi è mini invasiva cioè c'è un certo numero di pazienti a livello di dolore oncologico si è anche si è riusciti a dire che circa il 5-6% dei pazienti oncologici non rispondono a terapie farmacologiche classiche opioidi ed altre si può intervenire con sistemi invasivi che possono essere delle termoablazioni cioè stordire diciamo lasciare non più capace di trasmettere sintomi a un nervo tramite il calore la stimolazione e tante altre anche per patologie non oncologiche la sindrome delle faccette vertebrali articolari che tormenta tante persone me stesso compreso può essere molto aiutato andando a lesionare temporaneamente i nervi corrispondenti cioè esiste oltre la terapia farmacologica una terapia cosiddetta invasiva l'ernia del disco per esempio se devono essere sottoposti intervento chirurgico non subiscono più l'intervento di apertura di una volta ma a Cosenza in ospedale al Mariano Santo c'è un collega che effettua la mini chirurgia invasiva del racchide con due taglietti da un centimetro e mezzo l'uno riesce ad eliminare le ernie facendo mettendo il paziente in condizione di camminare nella stessa giornata le cose sono molto migliorate nel corso degli anni lei collabora con Oncomed Ah sì sì anzi tra non molto forse per la fine del mese saremo nella nuova sede che è in pratica Piazza Kennedy abbiamo l'inella perché a Corso Telesi abbiamo avuto difficoltà di vario genere a parte la location che era molto piccola ma ci sono stati degli episodi di indolleranza sì abbiamo seguito purtroppo quindi se sarà anzi ringrazio perché questo è un modo per dare contezza a chi lavora a cominciare dalla Presidente con una donna che uno ne fa e centone pensa Francesca Caruso noi siamo a disposizione di pazienti oncologici non abbienti che non sono in grado di pagare le cure o le diagnosi o di essere anche aiutati seguiti nei loro percorsi di diagnosi e terapie in maniera assolutamente gratuita parlando di oncologia si parla di dolore si parla anche di terapie quali sono le terapie per il dolore la medicina nel dolore e nell'oncologia come dicevo un attimo fa fortunatamente il 95% circa di pazienti oncologici se affetto da dolore viene in maniera quasi totale o comunque in maniera soddisfacente alleviata dalla sofferenza con farmaci che sono alla portata di mano ormai di qualunque farmacista di qualunque farmacopea cosa che 40 anni fa senza dire che si somministrava la morfina ad un paziente in stato avanzato a me non piace dire terminale di malattia venivamo presi per spacciatori veri e propri spacciatori oggi finalmente c'è una vasta scelta di farmaci da quelli più tra virgolette perché non esiste il farmaco banale paracetamolo la tachipirina può essere uno dei farmaci che per dolore di media o bassa intensità può essere utilizzato anche nelle patologie oncologiche preciso una cosa nei confronti della tachipirina perché mi capita spesso di sentir dire forse ho fatto il nome farmacommerciale non dovevo farlo ma per capire meglio se io dico forse acetaminofene acetaminofene si me l'ha insegnato poco fa o paracetamolo potrei non essere compreso ma viene classificata erroneamente tra gli antinfiammatori e non è antinfiammatorio se non in maniera talmente blanda da non essere assolutamente è un antipiretico soprattutto è un antipiretico ed è un antalgico allora l'utilizzo della tachipirina per il raffreddore banale non ha senso può avere senso in una sindrome influenzale accompagnata da dolore muscolare allora è un aiuto e dalla febbre sicuramente anche dalla febbre dalla febbre attenzione da 38 in su da 38 e mezzo e mezzo perché anche la tachipirina ha dei limiti cioè o meglio ha delle controindicazioni ho una patologia epatica importante devo stare attento forse non dovrei usarla o comunque mai superare i 3 grammi al giorno cioè 3 compresse da un grammo al giorno per più tempo possono danneggiare il febbre quindi attenzione anche alla cosiddetta banale tachipirina le ricordava l'episodio tragico di un suo collega che per non chiedere aiuto a chi era in ferie per reggere il reparto esattamente per non far rientrare i colleghi era agosto rianimazione di Parma di circa 30 anni fa per restare in servizio aveva febbre altissima superò i 3 grammi arrivò 4-5 grammi di tachipirina al giorno per 3 giorni ebbe un'epatite fulminante dopo 72 ore morì nella sua stessa rianimazione quindi attenzione nessun farmaco è banale anche l'acqua assunta in quantità superiori a quella che è la necessità del corpo in quel momento fa male ogni cosa introdotta nel nostro organismo deve essere ben bilanciata non è sbagliato dire che la dieta ma dieta intesa non come restrizione calorica ma come stile di vita equilibrio in generale stile di vita che vuol dire dall'attività fisica al mangiare secondo la dieta mediterranea vuol dire ostacolare la genesi di molti dolori a livello di apparato osteomuscolare l'olio d'oliva così come l'olio il pesce gli omega 3 sono ausili anche contro il dolore chiaramente non si può fare una terapia contro il dolore con questi farmaci ma con questi presidi ma certamente avere una dieta ripeto intesa come stile di vita può essere d'aiuto per rispondere poi lei diceva quali farmaci nel dolore oncologico dagli antinfiammatori in avanti l'OMS anni fa per far sì che si difendesse nel mondo la concezione di terapia del dolore farmacologico tra virgolette facile inventò l'accesso a tre gradini sul primo gradino c'erano appunto gli antinfiammatori e la tachipirina sul secondo gradino se il dolore non recedeva gli oppiacei i cosiddetti oggi non si chiamano più così leggeri come la codeina anzi in commercio si trova la codeina abbinata alla tachipirina non posso fare il nome farmacologico ma molti avranno inteso così come anche oppiacei più leggeri al terzo gradino ci sono gli oppiacei forti come la morfina e similari rappresenta già una idea anche se il concetto di gradini è stato superato perché molte volte si ha la necessità di partire direttamente dal terzo gradino per dolori importanti dolori che si misurano con la cosiddetta NRS molti confondono la VAS che è la scala visiva analogica con l'NRS che è un punteggio da 1 a 10 se io chiedo a un paziente fibromialgico quanto vale il suo dolore difficilmente mi dice 6 7 mi dice 11 mi dice 10 perché è la durata nel tempo che influisce lo rende insopportabile sulla esatto ci sono ah c'è una telefonata sentiamo un po' buon pomeriggio da dove chiama e come si chiama pronto? pronto? sì prego pronto senza senza io ti avrei pensato io ti amo Giuseppe voglio fare una come come voglio fare i complimenti per chi per chi ha creato questa terapia del dolore i complimenti al dottor no non l'ho creato grazie grazie per i complimenti io non poterò stare per una miallopatia cervicale dopo mi hanno consigliato la terapia del dolore io ho cominciato ad avere la vita migliore quindi io ringrazio tutti quelli che si vengono con la terapia del dolore quindi un problema cervicale da quando fa la terapia del dolore grazie a lei per questa telefonata e per questo riconoscimento che è utile per chi ci ascolta in questo momento a diffondere il concetto che non si deve soffrire anche perché trascurare a lungo un dolore può voler dire far sì che il dolore venga memorizzato in quella che dicevo prima essere la pain matrix la matrice del dolore che è una specie di computer se vogliamo usare un termine più semplice e poi diventa molto difficile sradicare completamente questo ricordo del dolore la ringrazio per i complimenti perché questa telefonata potrebbe dare a molte persone la possibilità di pensare di accedere alla terapia o a noi piace dire alla medicina del dolore perché dire terapia vuol dire applicare farmaci o tecniche medicina del dolore vuol dire partire dalla diagnosi visitare bene il paziente capire affrontare insieme un percorso di cura disegnare insieme il percorso di cura le possibilità gli effetti collaterali di questo percorso quando io lavoravo all'IRCA davo gli appuntamenti la mattina un'ora di distanza l'uno dall'altro soprattutto per le prime visite perché ci vuole almeno un'ora di tempo per cominciare a capire qualcosa per questo fui anche rimproverato dall'amministrazione perché mi disse che e adesso che i numeri sono ancora più importanti chissà cosa avrebbero detto doveva farne 4-5 in un'ora sì così mi dissero anzi mi dissero non solo questo ma un giorno un commissario venne da Roma perché l'istituto era multisede e mi dice dottor mi sono informato lei fa delle cose splendide anche i suoi amici che lo conoscono un pochino in giro per le altre sedi pure però sono cose che costano troppo dica ai pazienti che non le sa fare non le faccia non tenendo conto perché il direttore generale deve portare il bilancio queste tecniche quelle di cui parlavamo prima sono più costose ma nell'ambito di un bilancio della gestione di un paziente vuol dire che quella persona da quel momento in poi non chiederà più visite non farà più farmaci non farà più controlli senza calcolare il beneficio umano certo il sollevare una persona dal dolore vuol dire cambiargli qualità atteggiamento miope che guarda soltanto alla produttività alla produttività che poi però nel lungo periodo si riverbera anche sul bilancio esatto purtroppo questa è la modalità è un classico perché hanno voluto creare le aziende nella sanità ma siamo vittime delle scelte sbagliate del passato no? di tutto quello che succede adesso e che si cerca di riparare no tuttora siamo veramente nei pasticci basta vedere la situazione in Calabria la carenza di medici la carenza di strutture organizzate quella che è la qualità generale ancora non abbiamo saputo non dico potuto saputo e voluto dare risposte per i LEA i livelli essenziali di assistenza non siamo stati in grado di farlo e se continua così lo saremo sempre di meno e adesso c'è l'altra spada di Damocle che insiste sulla nostra testa con l'autonomia differenziata quindi sarà un po' complicato non ne parliamo speriamo di no dicevamo la tachipirina abbiamo o meglio paracetamolo e acetaminofene acetaminofene abbiamo parlato di pregi e difetti poi ci sono gli antidolorifici anche in questo caso sono una panacea però presentano diverse controindicazioni o comunque degli effetti quadrali beh l'aspirina che è il principe degli antiimpiammatori conosciuta dai nativi americani loro conoscevano la corteccia del salice e la utilizzavano per combattere i dolori e la febbre e questo durante la conquista del West fu riscontrato dai da chi andò a togliere le terre ai nativi hanno una serie di effetti collaterali importanti i farmaci antiimpiammatori non steroidei cosiddetti cioè non il cortisone ma cortisone compreso hanno tutti una gastrolesività più o meno accentuata a seconda della molecola tutti una tossicità a livello intestinale una lesività e lo stesso a livello renale per non parlare di altre altri organi che sono colpiti dall'utilizzo prolungato non parlo di poche compresse di una terapia limitata nel tempo ma una terapia di lunga durata tant'è vero che le prescrizioni ministeriali parlano di 5 7 giorni non più di tanto ecco a proposito di questo vorrei dire due parole sui cosiddetti gastroprotettori il nostro stomaco è protetto da una barriera formata da molecole che si chiamano prostaglandine altrimenti il nostro succo gastrico acido si distrugge digerirebbe il nostro stesso stomaco questi farmaci ripeto i fans e il cortisone distruggono alterano questa barriera per cui c'è la possibilità che si creino delle lesioni micro o macro lesioni anche delle ulcere in quel caso l'utilizzo di farmaci che bloccano le ghiandole che producono l'acido cloridrico è indicato serve a proteggere non mi spiego perché si utilizzino i farmaci cosiddetti protettori gastrici inibitori di pompa se vogliamo usare un termine più scientifico quando c'è l'utilizzo dei farmaci antipertensivi farmaci per il diabete che non hanno questo effetto gastrolesivo quindi solo perché si prendono diciamo prendo 3, 4, 5 tipi diversi di pillole al giorno ci sono anziani che arrivano anche numeri superiori non vuol dire anzi vuol dire utilizzare a lungo questi farmaci rendere atrofiche queste ghiandole quindi far diventare difficile la digestione far arrivare nell'intestino cibo non perfettamente digerito o per nulla digerito dallo stomaco creare dismicrobismi intestinali gravi per una cosa inutile anzi dannosa dannosa a proposito di questo una parola importante per quello che forse adesso è anche di moda il microbiota o il microbioma intestinale cioè il cosiddetto secondo cervello noi abbiamo più recettori a livello intestinale che a livello cerebrale l'equilibrio tra i batteri dell'intestino nel loro interno è fondamentale per il sistema immunitario per il dolore la risposta alle malattie e non per niente ripeto viene detto il secondo cervello perché questi collegamenti come dicevamo all'inizio di trasmissione tra il sistema immunitario sistema endocrino sistema addirittura collegato all'elaborazione del sindomo dolore è legato anche alla composizione del microbioma intestinale fondamentale pensi che c'è una terapia che consiste nel somministrare feci di bambini sani negli adulti che hanno alterazione nel microbioma so che non è una cosa simpatica da descrivere ma è così per riequilibrare quando basterebbe magari osservare una dieta corretta yogurt greco per esempio per dire con continuità a parte tutto il resto potrebbe essere molto utile siamo arrivati in chiusura dottor Nicotera abbiamo passato un'ora molto piacevole sempre con il suo stile che è stato messo in evidenza anche dai nostri telespettatori che hanno telefonato la ringrazio per aver accettato il nostro invito per aver partecipato grazie a voi per l'invito e ci vedremo più in là per parlare di altri argomenti perché ce ne sono altri che non abbiamo potuto toccare per motivi di tempo con piacere e in corsia torna settimana prossima parleremo questa volta di oculistica vi aspetto arrivederci non vorrei aver esagerato